Sono le 10 del mattino, siamo a Corberto, vabbè sono pazzo di manno però eh. Siamo a Locate, siamo in un ristorante abbandonato, sono un po' di goldoni usati, quindi pausa pranzo. Ci sono delle presenze qua dentro, lo sento. Benvenuti a Striscia la Notizia, siamo qui per farvi vedere l'ecomostro e quanti soldi sono stati sprecati dallo Stato. Ho deciso che, abbiamo deciso che farmi vedere un pezzettino del montaggio. Il video che uscirà sarà esattamente questo. La notizia. La notizia. La notizia. La notizia. Buon palazzo. La notizia. Che fa' la notizia che guardo, è il professore sto, è quello preoccupato, è quello, 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 tutto bene, è quello che avrei massacrato, il primo in Giacobbar con dei pochi. Eh? Mi fa' io qua qui. No, 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 no. Eh? Ma a casa. Eh? Eh? Siamo su una fottuta terrazza del cazzo, siamo a Milano, sono alle 10 del mattino Sì, fingo che ore sono? È l'una e mezza! Sì, vabbè, a me è una volta che mi reggete il gioco, fammi di merda! Tutte le volte! Sì, ma... E come mi devo mettere? Sì! Ma raga, io davvero ho paura! C'è mistero, scopriremo il mistero del ristorante abbandonato, venite con me! Dai, 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 ci sono! Carico! Bella raga, 1, 29esima! Bella raga! Siamo a casa di Marco, ciao Marco! Ciao! Stiamo montando un nuovo video, che sarà l'ultimo video estratto di Merda Music Mixtape, nonché il mio video di debutto con la Uniro Label da quando è iniziata la collaborazione con questa etichetta. Volevo approfittare di questo video per ringraziare tutti coloro che hanno scaricato il mixtape è fuori da un mese e abbiamo raggiunto i 7000 download in un solo mese. Quindi grazie mille, ragazzi! Poi vedo anche che ultimamente siamo sempre di più sulla pagina fan di Facebook, quindi un abbraccio forte, un grazie mille a chi c'è da una vita e un benvenuto a chi si è appena unito. Grazie mille, ragazzi! Con questo video si chiuderà il capitolo mixtape e usciranno nuovi lavori. Non vedo l'ora di farveli sentire, spero che vi piaceranno. Un abbraccio forte a tutti, vi voglio bene, grazie! Grazie mille, ciao!